Ritroviamo questi personaggi dopo averli lasciati dieci anni prima, nel 71, alle prese comunque con un problema di coppia, di comprensione e di tradimenti che lasciano comunque un solco diciamo, perché appunto chi ha visto la seconda serie sa dell'incomprensione che era nata tra Anna e Vittorio. Ma Anna la lasciamo alla fine della seconda serie che insomma diciamo c'è la volontà di superare questa crisi del tradimento da parte di Vittorio ma anche dell'allontanamento da parte di Anna a inizio della seconda serie, quindi li ritroviamo che stanno cercando di affrontare questo problema perché non è che una partenza e una decisione di superare questa crisi fa già fa sì che la crisi sia superata, però purtroppo c'è qualcosa in Anna che un po' si è rotto e quindi non riuscirà a superarla pur andando da uno psicanalista che è Ettore, interpretato da Stefan Fress, e cercando appunto di tirare fuori questa rabbia che in realtà non viene fuori. Poi succederanno alcune cose all'interno di questa nuova serie che faranno sì che Anna e Vittorio si allontaneranno per tantissimi anni. Vittorio addirittura non sopportando l'idea di non poter più stare con Anna non rimane neanche più a Torino, quindi andrà all'estero e lì rimarrà per tantissimi anni facendo avanti e indietro quando ovviamente per vedere le figlie. Forse potevamo farcelo. Ma non è andata così. Ci ritroviamo a dieci anni di distanza con uno scenario ovviamente modificato, anche soltanto per il fatto che i figli della famiglia Costa Ferraris, la nostra e quella degli strano, sono cresciuti, quindi sono diventati adulti anche loro, quindi questo innescherà una serie di cambiamenti anche nelle loro storie. Noi ci dobbiamo ritrovare in qualche modo, perlomeno questa è la mia intenzione e dopo aver passato qualche anno fuori dall'Italia, quando ritorno per riconquistare Anna scopro che la situazione è un po' diversa da come mi aspettavo e quindi questo sarà l'inizio di un percorso che durerà sei puntate e bisogna vedere per capire come va a finire la loro storia. E quindi a un certo punto Anna deciderà di rifarsi una vita, si innamorerà di un nuovo uomo che, fatalità, è lo psicoanalista con il quale ha appena finito la terapia, che forse ha lavorato a favore suo invece di lavorare a favore di Vittorio, no povero, però ritornerà a Vittorio. Diciamo che Ettore è un uomo con il quale Anna avrebbe potuto vivere la sua vita, ma nella vita di Anna esiste Vittorio e quindi ci sarà un'ulteriore crisi nella nuova vita di Anna. Li puoi sposare? Io e te ci amiamo, giusto? Vuoi sposarmi? La cosa bella è che parla di famiglie, ma non in un modo, diciamo, usuale. Parla di famiglie in un modo, da un certo punto di vista, no? Quindi c'è la famiglia, se vuoi, un po' che anticipa una famiglia allargata, c'è una famiglia che viene dal sud e che sono appunto di strano questa grande famiglia che piano piano si modifica e si trasforma anche in base al fatto che abita e vive e lavora a Torino. Ci sono i ragazzi che piano piano crescono, quindi con le loro complicazioni. Cioè, tutti i personaggi sono stati scritti dagli sceneggiatori e girati dai due registi che abbiamo avuto, che sono Luca Ribuoli nelle prime due serie e Isabella Leoni in questa nuova serie, da dei punti di vista molto approfonditi. Ecco. Che cosa ricordi degli anni Ottanta? Sono stati il decennio, diciamo, forse che ricordo meglio, perché nell'Ottanta avevo 14 anni, quindi parliamo appunto dai 14 ai 24, gli anni nei quali appunto si abbandona l'infanzia, si passa attraverso gli anni feroci dell'adolescenza, i primi amori, le gioie, le delusioni, il fatto di diplomarsi, di scegliere l'università, le prime esperienze lavorative. Insomma, io ricordo l'anno del militare, i mondiali vinti dall'Italia in Spagna, insomma, è un decennio pieno di roba e quindi li ricordo quasi, diciamo, nel dettaglio, più degli anni dell'infanzia nei quali c'è una percezione diversa, degli anni successivi nei quali già magari il lavoro è stato caratterizzato da un'esperienza dietro l'altra, ma insomma, quegli anni lì sono stati forse gli anni fondamentali. Della fine degli anni Ottanta ho più ricordi, ovviamente perché ero un pochino più grande, non ero così piccola piccola. Il momento che noi raccontiamo è l'81 e di quegli anni lì non posso ricordare niente perché ero veramente appunto una bimba, però la cosa che mi ricordo di più era, per esempio, il mio cantante preferito che era Michael Jackson in quegli anni, che proprio in quegli anni era uscito con Thriller, era uscito con Thriller proprio credo i primi anni Ottanta e quindi io ancora non lo conoscevo, però poi piano piano verso la fine degli anni Ottanta è diventato un po' il mio punto di riferimento musicale. Poi mi ricordo questo look assurdo che avevamo con questi capelli molto cotonati e le spalle, queste gonne larghe, insomma anche nella quotidianità noi vestivamo ovviamente quella moda lì che però non era così bella come quella che potevamo vedere in una passerella, no ovviamente. Era un po' eccessiva, insomma un po' esagerata, sia nel trucco che ovviamente ancora io non utilizzavo, però insomma sicuramente nell'abbigliamento sì, insomma era poco donante secondo me. Prima visione, questo nostro amore Ottanta. Ciao spettacolo che spettacolo, vi aspetto su Rai 1 con questo nostro amore Ottanta. Ciao spettacolo che spettacolo, vi aspetto con questo nostro amore Ottanta da domenica a primo aprile che è Pasqua e poi da lì in poi tutti i martedì 3, 10, 17, 24, è il primo maggio credo, no? Vi aspetto su Rai 1 dal primo di aprile, quindi il giorno di Pasqua e tutti i martedì a seguire con questo nostro amore Ottanta. Grazie. 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 Grazie.